bella ragazzi siamo qui sul secondo episodio della mistograph in ritorno guardate che bella catena montuosa su minecraft e ho trovato una bella montagna per fare il nostro rifugio quasi identico quello la della prima serie con doccia vabbè stessa cosa è qua il futuro smith vinto c'è il secondo c'è il grandissimo gennaio 0 18 grandissimo vabbè il marmo l'ho preso da qua sotto perché sicuramente qualcuno dirà che usa iac sta cosa a me non me ne ho fatto niente e oggi che possiamo fare legge no ma non sei registro eh non sei registro come no ah e prima di questo avevo fatto un episodio e avevo fatto una scavare e ho trovato tutta questa roba va beh sto frappso piano da si accenderà coddio piangosto con io piangosto con io con io con io con io no 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 oh va a genna intanto pensa il box la bat box se cosa si la bat box già perché non si fa più perché io non si fa giù boh lo smisse nel testo che poverso xxxx per vedere nel proprio punto potrebbe visto p poveri di mmmm dopo devi far il video su point sii dopo questo vi sarà un video su point che cazzo possiamo fare? ma sei quello tecnico ah no ah facciamo le prime cose il generatore e sta roba il generatore a che serve? io non me lo ricordo a generare elettricità ma veramente? no veramente faccio schifo allora allora mi servono i run for nice che si fa con 8 pezzi di ferro 3 pezzi di ferro rifinito quindi aspetta so 1,2,3 lo so poi che ci serve la batteria come si chiama? 3 batteri che si fa con ah non abbiamo non abbiamo non abbiamo non abbiamo alberi della gomma le bruciate tutto eh? le bruciate tutti coppe si coppe le bruciate si coppe le bruciate si sa mostro come la jason la colorata allora prima cosa mettiamo a fa sti tre oh lì c'è la solita che sta zitta oh ragazzi se mi potete fare una mano perchè io ho messo 100 volte il punto oh entra il punto qua dentro ma ogni volta che chiudo minecraft mi si leva andiamo a cercare andiamo a cercare l'alberi della gomma allora ragazzi stop il video e vediamo se trovo un bel albero della gomma eccoci ragazzi ho trovato un po' di alberi della gomma ma ho crashato minecraft e guardate non c'è più nemmeno il segno di della casa vediamo che cosa si ci danno ci da che cosa che pezzetto di gomma o che alberello 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 vai e te non mi piace per poi eh eh oh secondo e inizieremo inizieremo una serie uno due tre non c'è dato nemmeno un bezzetto di gomma attenzione tu che mi sto ad imparare a giocarci bene ma vattene a fuoco non essere volgari si ma ci dai le ossa perchè fa? per la farina d'osso e che me frega la lasciamo fa piano piano almeno crescono più sale senza usare agente chimici non vuole partire dalla casa verso sinistra si credo credo aspetta tu girai intorno e io non ricordo aspetta tu girai intorno e io non ricordo aspetta prendiamo la ello ello come è la gomma gomma si ma ci c'è l'altra no ma quando lo tagli ci sta la gomma te la dà come si fa? che? il città si si non ricordo lo facciamo un altro episodio però non mo' oh che cazzo mi sta androppando che cazzo dai un altro un altro alberello chiedo non tanto ma se facciamo pure il mining drill e mining drill e la sega vediamo se ci riusciamo il mining drill e la sega e e e e e e e e è il nostro amico bruco che scava tutte le parti saluta il tubo ciao oh oh levati che sto scavando eh si sto scavando sto a fa' il boscaiolo sto a fa' la boscaiola levati la legna che servio se la metti nel nelle settore di da ti dà la gomma eh e e e e e e e me lo facciamo ok adieu vangolo schimali vero vangolo schimali vero vangolo schimali vero ok andiamo alla ricerca della nostra casa e mi chiamano aspettate ragazzi scusate ragazzi per le interruzioni comunque stavadì andiamo a casa dammi c'è sempre quel flosso di gendaro tipo mo faccio un un salto e muoio guarda oh no aspetta dosta la casa non mi ricordo aspetta mettere canzone hi baby oh aspetta aspetta zombie eccola wow andiamo alla ricerca della casa la casa ultima ciao camperone ciao socio ciao 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 sta cam sta camberando po ciao andiamo su 1 2 2 eh via un po' di sabbio già ce l'ho creeper creeper crema creeper 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 eh non mi ha visto oh mi ha visto non mi ha visto sono pazzi corri 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 sopra la canzone ci sta quello la l'emm quello con la testa di caramella dove sta la casa porco cane ecco qua trovate avresti un po' come me aspetta 1 2 momoio 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 un cuore un cuore un cuore un cuore un cuore in mezzo dai un cuore non ti sento bene dai 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 po' un pull un cuore evangelico il destro caozze web Zitto che ciò porre che mamma si scopre il creeper Aspettate ai ragazzi che stanno leggendo minecraft E avviamo subito subito Ok Ok Diciamoci prima che rilanca Vai uno Vai uno Ok uno Un ender Si vai Ci sta un po' di agenda a casa Eeeh Corri cazzo Corri 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 dentro casa Corri 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 toro possiamo fare, mettiamo a cuocere questi due carboni allora mi serve copper che sta qua che la cesta è coppia ah ma li si, ah dobbiamo facciare pure chi? questi qua che pall allora com'era? così 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 ok poi che dobbiamo fare? dobbiamo fare generatore e mica risponde la storicchione ma come devo? ti hanno dicappato mamma allora ok minecraft vai vai da puttane minecraft oddio così? si se ci riesco aspe no aspettate ragazzi che abbia minecraft e eccoci ragazzi allora stiamo facendo il generatore così 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 ah no dobbiamo fare batteria vero come si fa la batteria? genna e non mi ricordo ok ah tin reddison tin reddison tin reddison tin reddison 2 di tin 2 di tin e 4 di tin facciamo sta cosa ecco la batteria mettiamola qua ecco il nostro primo generatore ragazzi oggi dopo il generatore che facciamo? dopo il generatore profumo di cinghiale che si spiscia dal dottor che cazzo hai detto? facciamo electric furnace o vai really electric furnace vai allora sei sei no tre sei e rifinito la reddison e mi manca il ferro giusto perchè? allora allora com'era? così ma ecco sono pure mica mi risponde niente l'altra limpica ecco qua poi electric furnace ah manca quello e rense che cazzo ok ok eh? l'energia l'energia si fa qua ci mette il carbone dentro e fa energia oh carbone vediamo vediamo questo carbone ragazzi col marmo marmo l'energia il che lascia aperto metto il carbone colso e inizio a fare volante però manca il filo così a bere ci arriva la volante si 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 cosa è andata con me vicino? sai che succede? niente no no e guarda c'è sto vicino ok non 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 no non non che ok che passiamo favore l'extrattore e' bravo l'extrattore oh che palla quattro tritrappo tritrappo allora il ferro tutto il ferro che abbiamo e non ci abbassa non ci abbastare quindi continuiamo il prossimo episodio da Pampere 96 è tutto e anche da Gemara 018 bene ragazzi ciao